L'ha preso l'accappatoio? Sì Anche le ciabattine, eh? Stai tranquillo, è solo ginnastica preparto Stai tranquillo Aspetta quando fai la doccia che scivoli No Ginnastica preparto Stai ferma qui Sbucata all'improvviso Aperti subito un'ambulanza Dai Adesso arriva l'ambulanza, stai tranquilla Aperti Milo Come? Aperti Milo Chi è Milo? Il mio fratello Sì Stai tranquillo, stai tranquilla Ora io aspetto l'ambulanza Ti avverete più tardi Non toccarla, non toccarla Stai tranquilla, respira Respira Stai tranquillo, stai tranquillo